le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di lunedì 11 maggio ariete la luna è difficile vi rende incostanti smaniosi impulsivi avete bisogno di prendere iniziative anche perché mercurio è in una posizione che vi invita all'azione toro la luna è utilissima per i giovani studenti ma anche per chi svolge attività legate alla comunicazione l'amore vuole regalarvi emozioni straordinarie gemelli un avvio di giornate è piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto burocratico o legale l'amore vivrà di incertezze cancro cautela richiesta da questa luna in tutti i campi sul lavoro sono le collaborazioni ad essere messe sotto pressione non riuscirete a trovare il giusto feeling leone molto nervosi a causa di marte che vi sta augurando anche per alcuni problemi che non nascono da vostri errori ma che vi trovate a risolvere vergine la vostra situazione sentimentale molto più chiara grazie all'influsso positivo della luna quindi datevi da fare sfruttando magari qualche amicizia bilancia in amore sarà bene tenere gli occhi bene aperti per non prendere una cantonata in giornate così diventate davvero molto ingenui a causa della luna scorpione luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro riceverete anche delle notizie inattese anche in amore si respira un'atmosfera più serena sagittario il lavoro vi costringerà a spendere molte energie ma alla fine riuscirete ad ottenere dei buoni risultati se saprete però scegliere la strada della diplomazia capricorno siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena oggi è il giorno ideale per prendere iniziative specialmente sul lavoro acquario ottime notizie in arrivo per voi mercurio in questa nuova posizione vi mette in comunicazione con tante persone importanti se stavate cercando un aggancio avrete l'occasione buona pesci una giornata davvero molto ricca di avvenimenti che riguardano in particolare l'amore la luna vuole a tutti i costi aprire il vostro cuore e la passione farà il resto e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus più Grazie a tutti.